Benvenuti a Caserta Sera con una nuova intervista. Il 29 gennaio a Falciano del Massico, nella terra del vino Falerno, tanto caro ai romani, si terranno le primarie in vista delle prossime elezioni amministrative di primavera. La guidata non è stata ancora fissata. La novità è che in questo piccolo comune si è decisi per la prima volta di andare alle primarie rompendo ogni tradizione politica sulle scelte. Noi abbiamo sentito il professor Mario Zannone, che è il candidato all'interno di una coalizione civica. Pregherei la regia di mandare in unta l'intervista. Sentiamola. Sì, le primarie sono lo strumento che ci permetterà di confrontarci e di votare il candidato sindaco che sfiderà l'attuale amministrazione. Quindi è un fatto importante ed insolito grazie anche alla determinazione dei ragazzi di Sella e di Sì, in questo momento, della responsabile Igor Prata e del PD. Noi come Movimento Falciano Tu abbiamo aderito, abbiamo dato credibilità. Adesso stiamo in pista con la mia cantitatura, che è una cantitatura di servizio spinta dalla gente ed è per la gente. Penso che questo messaggio stia passando. È la prima volta che Falciano si avvicina alle primarie? È la prima volta e noi come gruppo abbiamo voluto che avessero un'anima. L'anima è quella di dare una prospettiva, un confronto dopo anni di blocco, dopo anni di macerie. Noi abbiamo iniziato a costruire la casa della politica distrutta dalla pochezza, dal pressappochismo. Noi vogliamo che Falciano e i cittadini abbiano nuovamente un discorso politico. Quindi l'appello è anche a quanti stanno ai margini lasciati fuori volontariamente e involontariamente. Ecco, questa è l'occasione per determinare la svolta e soprattutto il cambiamento. Ecco, secondo lei perché hanno scelto lei? Ma il mio gruppo ha una visione movimentista. Io ho rappresentato negli anni l'ala movimentista del centrosinistra e soprattutto l'anima popolare del centrosinistra. Battaglie contro le coballe, per l'ambiente, sono famosissime grazie anche all'appoggio della gente. La gente ha sempre risposto. Oggi la candidatura era di servizio perché io incarno, la gente lo ha visto, l'incarno alcuni principi e alcuni valori e soprattutto incarno i principi della buona amministrazione perché la buona amministrazione è fatta di ordine, disciplina, buone idee, buoni concetti. Andare ad amministrare e non pensare alla gente è un fatto deleterio. Ecco, la gente sta vedendo invece la possibilità che qualcuno vada a fare i propri interessi, i suoi interessi, gli interessi della gente. Ecco, ci dica almeno due punti importanti del suo programma elettorale. I punti importanti sono lo sviluppo e i giovani. Oggi Falciano è un fantasma, è come se una valanga l'avesse avvolta, un vaillon di nuova visione. Il paese è morto, il paese è un fantasma, economia a terra. Noi vogliamo costruire ad esempio il paese del vino Falerno, una cittadina che abbia percorsi e urbanisticamente attrezzata intorno a questa nuova idea. Falciano è la capitale del Falerno. Oggi gli altri comuni stanno scippando questo marchio internazionale. Ecco, questo si fa attraverso le istituzioni che oggi sono ad appannaggio di pochi da un lato e dall'altro. La politica deve essere liberata e non deve essere ostaggio di qualcuno. Noi stiamo proponendo anche una campagna di liberazione perché se non si libera la politica, se non si costruisce il discorso politico, se non la togliamo di mano a pochi, Falciano non crescerà. Un messaggio a chi la deve votare, a chi magari è un po' indecisa? Che cosa vuole dire? Noi ci rivolgiamo direttamente alla gente perché la gente ci ha sempre sostenuto e mi ha sempre sostenuto. La candidatura è per la gente, è per loro, è per i loro interessi. Ancora una volta noi ci mettiamo in gioco e soprattutto diamo la possibilità a Falciano di cambiare. Siamo sicuri che vincendo le primarie noi andremo a sconfiggere anche la lista Gabbiano. La gente ci deve credere, stiamo riscontrando tanto entusiasmo e pensiamo di poterla spuntare. Occorre la motivazione. Il 29 gennaio dovete venire a votare per chi pensate che sia la persona ideale, ottimale per amministrare un comune allo sfascio dove pochi si distribuiscono le risorse di molti. Ecco, questo è il messaggio. Venite in molti e mobilitatevi. Questa è l'occasione storica per liberare Falciano. Bene, la nostra intervista termina qui. Grazie al professor Mario Zannone e a tutti voi che ci avete seguiti. Alla prossima, sigla!